Gli uomini della Procura Federale provano ad accelerare i tempi sul fronte dell'inchiesta sulla presunta Combin di Savona Teramo. Le audizioni avvenute ieri negli uffici di Via Campagna hanno coinvolto quattro giocatori, tutti in campo nella gara del 2 maggio, Marco Cabeccia e Alessandro Marchetti, i cui nomi erano già comparsi nell'informativa della mobile di Catanzaro in occasione delle intercettazioni di alcune telefonate tra l'ex dirigente aquilano Ercole Di Nicola e il calciatore Davide Matteini. I nomi nuovi sono quelli dei difensori savonesi Jacopo Galimberti e Fabio Guelfi. Non si è capito come mai la Procura Federale abbia deciso di audire questi ultimi due. Anche i legali dei due atleti non hanno dato chiarimenti a proposito, limitandosi a dire che tutto è andato bene e che la posizione dei rispettivi assistiti è stata chiarita. Nessuna dichiarazione particolare neanche degli avvocati Alessio Piscini e Giovanni Rubino, legali rispettivamente di Marco Cabeccia e Alessandro Marchetti, davanti ai sostituti federali. è comparso anche l'ex consulente esterno del Savona, nonché ex assistente arbitrale Enrico Cenicola, che sul fronte penale non è indagato. Come invece l'altro ex consulente esterno Marco Barghigiani, accompagnato da Paolo Gallinelli, legale anche di Barghigiani, Cenicola ha prodotto ieri documentazione che attesta, come abbia sottoscritto con l'allora presidente del Savona delle Piane, un contratto in cui riceve mandato per la cessione del 56% delle quote della società Ligure di pertinenza appunto del patron del Savona. Cenicola ha prodotto della documentazione che dimostra l'esistenza di un mandato conferito dal presidente delle Piane per la vendita delle quote della società Savona Calcio. Gli incontri avuti da Barghigiani, che operava all'unisono con Cenicola e in alcuni di questi lo stesso ex assistente arbitrale era presente, sarebbero stati improntati alla ricerca di un acquirente delle quote e allo sviluppo di alcune trattative di mercato. Data l'impossibilità per Ercole di Nicola di recarsi questo gin, procura per l'audizione, poiché non è stato possibile ottenere l'autorizzazione di tutti e cinque i GIP che sono competenti territorialmente sulla base dello spacchettamento del filone MAD dell'inchiesta Dirty Soccer, per questa settimana sono esaurite le convocazioni. Se ne potrebbe riparlare per la prossima settimana? Non è ancora chiaro se la procura deciderà di audire il presidente del Teramo Campitelli e il DS di Giuseppe. Entro una decina di giorni potrebbero arrivare i deferimenti per le persone coinvolte nell'inchiesta su Savona Teramo, tempi stretti per una battaglia legale che sarà serratissima.